Con un mini palco dotato di amplificatore incorporato per portare la musica in giro, il giovane architetto Umbro, Andrà Benedetti, ha vinto l'edizione 2018 del premio Ancalau, riservato alle start-up. Un'altra edizione fantastica di Ancalau qui a Bosia, un paesino dell'Alta Langa di 180 abitanti che diventa con decine di migliaia di persone in questa domenica dell'Ancalau. Abbiamo ricevuto quasi 60 progetti da giovani di tutto Piemonte e anche di tutta Italia, bellissimi progetti, ne abbiamo selezionati 5 qua, uno più bello dell'altro. Il primo premiato è stato Oscar Farinetti, il quale ha trovato veramente interessante questo premio che trae origine da una tradizione locale di persone molto intraprendenti e Farinetti stesso ha dato lui il lancio a un concorso annuale di start-up giovani. Al papà del movimento della birra artigianale italiana, Teo Musso, il riconoscimento local global. Sono esattamente il simbolo di che cosa vuol dire partire da un micro paese con un'idea e svilupparla e poi diffonderla. Oggi vendiamo la nostra filosofia birraria in 42 paesi al mondo. Abbiamo fatto la prima birra 100% italiana della storia d'Italia che è nazionale. È un orgoglio ritrovarsi davanti a un premio di questo genere e mi serve anche per fare delle riflessioni. Una giornata intensa durante la quale è stato anche inaugurato un murales dedicato all'ex Presidente della Repubblica Luigi Inaudi e sono stati premiati i lavori realizzati dai bambini nelle scuole locali. Oltre al premio Ancalau esiste anche Alta Langa in vetrina dove tutte le eccellenze produttive dell'Altalanga e artigianali vengono qui per una mostra a mercato.